Signori, dopo una pandemia, una crisi economica e una guerra nel giro di un paio d'anni, beh, benvenuti nella crisi alimentare più grande da almeno 10 anni a questa parte. E no, non è tutta colpa di Putin. Oggi cercherò di raccontarvi cosa sta succedendo e perché è importante conoscerlo. Ma vi siete mai chiesti cosa significa valutare una crisi alimentare? Beh, sicuramente non è un problema nel decidere se oggi mangiare un'insalatina leggera oppure una carbonara. È qualcosa di un po' più grave, ecco. Così, giusto per chiarire quanto molti di noi siano dei cazzo di privilegiati, me compreso. Infatti il World Food Programme definisce 5 fasi per chiarire cosa sia o non sia una crisi alimentare. Partiamo dalle prime due che rappresentano o una condizione normale oppure di stress alimentare, fino ad arrivare alla terza fase in cui siamo già all'interno di una crisi alimentare. Poi entriamo nella fase 4, cioè di un'emergenza alimentare, per cui c'è una elevata malnutrizione all'interno della popolazione e un aumento della mortalità. Fino ad arrivare alla fase più critica, cioè la fase 5, dove la popolazione vive in condizioni di catastrofe o addirittura di carestia. Per inquadrare meglio la situazione, se nel 2020 le persone che facevano parte di queste ultime tre fasce di crisi alimentare erano pari a 155 milioni nel mondo, nel 2021 la cifra è aumentata a 193 milioni di persone che soffrivano la fame. In un solo anno questa cifra è aumentata di 40 milioni. E stiamo parlando del 2021, quindi ancora Putin non c'entra nulla. La maggior parte di queste persone appartiene alla fase 3, cioè la crisi alimentare, pari all'incirca 133 milioni nel 2021. Mentre quasi 40 milioni di persone sono vissute nel 2021 in una situazione di emergenza alimentare, per finire con 570 mila persone nel 2021 che hanno patito la carestia. Ma se questa storia racconta il 2021, e quindi evidentemente Putin e la sua guerra in Ucraina non c'entrano nulla, allora cosa è successo realmente? Beh, ce lo spiega sempre il World Food Program. Le principali cause sono tre. Guerre, shock economici e maltempo per i più ottimisti. Oppure per i più realisti, cambiamento climatico. Iniziamo dalla guerra, che è la causa principale di questi problemi alimentari. Addirittura 140 milioni di persone stanno in questa situazione a causa di conflitti all'interno della loro regione. I problemi sono sempre gli stessi. La guerra distrugge coltivazioni. La guerra chiude importazioni o esportazioni di generi alimentari. Oppure ancora la guerra toglie braccia all'agricoltura. Perché quelle braccia o purtroppo non ci sono più, oppure servono per imbracciare fucili o armi da fuoco. Le nazioni più colpite in questo caso sono Etiopia, Sud Sudan, Yemen, Afghanistan, Iraq, Palestina. Insomma, sono ben 24 i paesi sotto un conflitto che genera povertà alimentare. Questo, di nuovo, ancora prima di Putin. La seconda causa è il cambiamento climatico, che conta più di 23 milioni di persone con problemi alimentari. Forse dovremmo dedicare un'intera puntata di Whatsapp Economy al cambiamento climatico, perché ha un sacco di conseguenze a livello economico da qui ai prossimi decenni. Ma rimaniamo sul problema alimentare per il momento. Gli Stati Uniti ultimamente, ad esempio, hanno subito uno dei più grandi periodi di siccità negli ultimi dieci anni. E ad esempio la produzione di grano duro si abbatterà del 21%. Dall'altra parte del mondo, invece, la Cina ha subito delle grandi alluvioni che hanno distrutto i campi e quindi reso impossibile o ritardato di settimane la semina. Il Madagascar e l'Angola, invece, hanno subito uno dei periodi di siccità più grandi degli ultimi 40 anni e la loro produzione agricola è diminuita tra il 50% e l'80%. Alla fine del 2020, invece, gli oregani Eta e Iota in America Latina hanno causato innumerevoli disastri alimentari che hanno avuto delle conseguenze anche per tutto il 2021. Come ancora, in Afghanistan, l'80% del raccolto è stato perduto a causa della siccità. Il terzo aspetto sono gli sciocchi economici, inclusi il Covid-19, che nel 2021 hanno generato più di 30 milioni di persone con problemi alimentari. Una delle prime cause deriva sicuramente dalla logistica internazionale che, dopo lo scoppio della pandemia, si è arrestato o ha rallentato enormemente. Di conseguenza, l'arrivo di materie prime o di prodotti alimentari ha avuto grandi difficoltà non solo da parte dei mercati internazionali, ma anche da parte delle istituzioni che danno una mano proprio in questo senso, proprio come il World Food Program. Inoltre, per mantenere elevata la produzione agricola, hai bisogno di fertilizzanti. Ma, da inizio 2021 ad oggi, il prezzo dei fertilizzanti è esploso. Questo perché una delle principali componenti per produrre fertilizzanti è il gas, che, anche questo, è aumentato tanto da metà 2021 ad oggi. E, di conseguenza, i costi per i fertilizzanti sono aumentati e sono diventati inaccessibili ai paesi soprattutto più poveri. E, di conseguenza, è diventato ancora più difficile coltivare materie prime che servono per soddisfare il nostro fabbisogno alimentare. E, di conseguenza, ha aumentato le persone con problemi alimentari. Ma, oltre all'aumento dei costi dei fertilizzanti, nel 2021 c'è stato un ampio aumento dei costi di praticamente quasi tutte le materie prime. E questo ha avuto un impatto diretto nella produzione agricola, quindi nel settore agricolo, ma anche nella disponibilità di materie prime da inviare nei paesi più poveri per cercare di, appunto, diminuire questi problemi alimentari. Di conseguenza, insomma, la situazione si è aggravata. Questa è la crisi alimentare fino alla fine del 2021. Ma, purtroppo, a febbraio 2022 scoppia la guerra in Ucraina e questo non fa nient'altro che aumentare le pressioni riguardo la crisi alimentare globale. in quanto aumentano ancora di più i prezzi di gas, petrolio e di un sacco di materie prime che hanno degli impatti diretti sul settore agricolo e, di conseguenza, aumentano ancora di più le problematiche sull'alimentazione di un sacco di persone povere. Inoltre, l'Ucraina e la Russia sono due paesi che producono ed esportano un sacco di materie prime alimentari. Sono tra i principali produttori, ad esempio, di grano, mais oppure frumento. E quindi aumentano ancora di più i problemi. Ad esempio, in Ucraina, a caso della guerra, si prospetta che il raccolto che sta per arrivare produrrà tra il 20 e il 30% in meno rispetto alle annate precedenti. Un altro problema è che le scorte alimentari in Ucraina sono state bloccate nei porti. Quindi è stato bloccato sia l'export verso le altre nazioni ma, purtroppo, una volta che arriverà la stagione della raccolta tutto quel grano, ad esempio, che verrà raccolto si avranno dei problemi non indifferenti a doverlo mettere da qualche parte perché, appunto, tutti i siti di stoccaggio sono pieni o quasi pieni dovute alle precedenti raccolte che non sono state esportate in altri paesi. Quindi c'è un grande rischio anche che la prossima raccolta non solo sarà inferiore rispetto alle annate precedenti ma non sappiamo neanche dove metterla e tutto questo genererà ulteriori pressioni ai prezzi alimentari. Inoltre, come riportato dalla CNN c'è il sospetto che la Russia stia attualmente rubando un sacco di quantità di materie prime alimentari dall'Ucraina sia dai campi ma anche, appunto, dai siti di stoccaggio che sono attualmente fermi per portarli nel territorio russo e rivenderli ai mercati internazionali magari ad un prezzo anche maggiorato. Tutto ciò ha generato un aumento dei prezzi di grano e mais rispettivamente del 22-20% rispetto all'inizio della guerra. Questo si aggiunge agli ulteriori incrementi avvenuti sia nel 2020 che nel 2021 come abbiamo visto in precedenza. Queste materie prime alimentari che vengono prodotte in Ucraina e in Russia vengono esportate soprattutto in Medio Oriente e in Africa che sono proprio quelle regioni che negli ultimi due anni hanno patito di più questa crisi alimentare. Questo aumento dei prezzi delle materie prime alimentari o la loro scarsità non solo esclude dai mercati i paesi più poveri che non possono permettersi questi prezzi così alti ma inoltre mette in estrema difficoltà anche gli aiuti internazionali. Ad esempio il World Food Program che mette a disposizione materie prime alimentari ai paesi più poveri ha dichiarato che i suoi costi operativi sono aumentati addirittura di 71 milioni di dollari al mese. Una cifra che permette di fornire a quasi 4 milioni di persone una razione giornaliera per un mese. Quindi di fatto riducendo la sua capacità di rispondere a questa crisi alimentare. A causa di questa situazione molto critica sono state indette una serie di politiche protezioniste. Ad esempio in Cina è stato cessato l'export di fertilizzante oppure ancora in India è stato indetto un blocco alimentare verso i paesi esteri. Oppure ancora l'Indonesia ha vietato l'export dell'olio di palma. Capite bene che aumentare ulteriormente le barriere al commercio non fa niente altro che aumentare gli shock economici che come abbiamo visto in precedenza aumentano il rischio di povertà e carestie. Il World Economic Forum infine ci dice che il commercio internazionale calcolato in base alle calorie e cioè quindi alle materie prime alimentari è sceso da un livello inferiore rispetto all'ultima crisi alimentare avvenuta nel 2008 e che se continuiamo con questa traiettoria cosa che purtroppo potrebbe succedere potremmo vedere la più grande crisi alimentare della storia recente. Insomma c'è da preoccuparsi. Come vediamo dai dati le nazioni più colpite da questa crisi alimentare sono soprattutto i paesi medio orientali oppure i paesi africani mentre noi saremo colpiti in maniera più marginale rispetto a questi paesi che rischiano delle vere e proprie carestie o delle emergenze alimentari. E quindi se il problema principale riguarda i paesi in via di sviluppo e non noi perché dobbiamo conoscere questa situazione? Beh per quattro motivi. Il primo motivo ovviamente riguarda l'interesse umanitario dobbiamo conoscere che ci sono milioni e milioni di persone che stanno soffrendo la fame e che questo problema sta aumentando in quest'ultimo periodo e quindi dobbiamo cercare di intervenire attraverso un dibattito pubblico o sensibilizzare le organizzazioni internazionali per cercare di risolvere questo problema. Il secondo motivo ci riguarda in maniera più diretta infatti parliamo di Putin e la guerra in Ucraina perché vedendo Putin questa situazione in Ucraina e questa mancanza di export nelle altre nazioni che sta aumentando la crisi alimentare lo sta utilizzando semplicemente come arma ricattatoria e cioè sta promettendo di riaprire i porti ucraini nel caso in cui le nazioni occidentali cessassero le sanzioni rivolte verso la Russia. Quindi purtroppo si tratta di un ulteriore risvolto della guerra e di quanto Putin sia cinico in questi termini. Il terzo motivo riguarda un elemento che è molto a cuore soprattutto da una parte della politica italiana in quanto queste persone che stanno soffrendo la fame cosa faranno prima o poi? Beh, prima o poi cercheranno di scappare almeno una parte di loro cercheranno di scappare da quelle regioni e dove andranno secondo voi? Andranno nei paesi in cui la situazione potrebbe essere migliore e cioè i paesi occidentali e quindi a causa di questo aumento della crisi alimentare ci si aspetta anche con l'arrivo delle belle stagioni un maggior numero di flussi migratori e quindi insomma io vi ho avvertiti se sentirete di nuovo parlare alcuni politici di queste tematiche e quindi la mancanza di cibo dall'altra parte del mondo avrà degli impatti diretti sui nostri interessi. L'ultimo motivo riguarda più una riflessione soprattutto a livello macroeconomico infatti fino a due anni fa vivevamo in un mondo super interconnesso e molto efficiente che nonostante tutti i suoi problemi funzionava abbastanza bene eppure due anni fa con lo scoppio della pandemia qualcosa si è rotto le interconnessioni si sono perse e stiamo vivendo attualmente tutti i problemi di una deglobalizzazione quindi di interconnessioni perse di un nazionalismo aumentato soprattutto a livello commerciale ed economico e ulteriori problemi di aumenti di inflazione eccetera eccetera ecco questo ci fa riflettere quanto in fondo prima non è che si stava così male se vogliamo e attualmente stiamo cercando di risolvere i problemi nati due anni fa nonostante adesso non parliamo più di morti, di covid, di mascherine eccetera eccetera stiamo ancora vivendo dei problemi economici nati dalla pandemia e dal covid-19 ecco questo era quello che secondo me era importante sapere riguardo l'attuale crisi alimentare spero di avervi dato degli spunti in più riguardo a questi temi io ringrazio gli abbonati e il consiglio d'amministrazione per sostenermi se volete farne parte link in descrizione perché potete ottenere entrando a far parte del consiglio d'amministrazione una serie di vantaggi tra cui gruppo telegram la firma alla fine dei video degli sconti o degli omaggi ai webinar oppure la newsletter The Speech che in arrivo ogni mese agli abbonati di Whatsapp Economy detto ciò io ancora vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao